Ciao, sono Dario, ho 30 anni e vengo da Monza. Praticamente sono già nato in pista. Devo tutto a mio padre che mi portava sempre all'autodromo a vedere qualunque tipo di gara, auto, moto, gran turismo, tricicli, tutto. Fin da piccolo impazzivo per le sce colorate dei boli di in pista e da allora sono diventato onnivoro per tutto quello che riguarda i motori. Non mi perdo un gran premio, studio tutte le riviste di settore, faccio gare online con i simulatori di guida, tutto il mio mondo è sui motori, ovviamente Abarth, la rossa con lo scorpione, la 695 tributo Ferrari, due leggende in una sola macchina. Lo scorpione che pungge il cavallino, impagabile. Abarth è velocità, grinta, competizione, prestazioni, storia, passione, in un'unica parola, mito. Rinuncerei a tutto quello che ho fatto finora e mi darei a questa nuova vita, diventare un vero pilota è il mio sogno e per un sogno così bisogna fare qualche sacrificio. Secondo me dovrebbe essere veloce, competitivo, grintoso, cattivo quanto basta ma soprattutto orgoglioso di portare addosso il marchio Abarth. Race, competition, winner, course, carrera, rennen, accelerar, vitesse, ganar, gewinnen, gearbox, drift, steering wheel, soft tire, slick. Sto migliorando il mio linguaggio da pilota. Perché sono il migliore.